O San Giuda Taddeo, apostolo glorioso, fedele servitore e cugino di Gesù, ascolta questa mia preghiera. Il nome del traditore fa sì che molti dimentichino o d'ignorino il tuo immenso valore e le tue alte virtù, ma la Chiesa ti onora e ti invoca universalmente come patrono dei casi disperati e delle situazioni senza rimedio. Intercedi per me, tuo umile devoto, te ne scongiuro e fa che anch'io possa beneficiare del santo privilegio a te accordato di portare prontissimo e tangibile aiuto laddove sia una situazione drammatica o disperata. Vieni in mio soccorso, in questa grande necessità, così che io possa ricevere la consolazione e la protezione del cielo, in tutte le mie distrettezze, tribolazioni e sofferenze, e in particolare ti chiedo, o amatissimo San Giuda Taddeo, di aiutarmi in questa richiesta. Ti prometto di esserti sempre riconoscente di questa magnifica grazia, e non cesserò mai di orarti come mio speciale e miracoloso patrono. O San Giuda Taddeo, mi appello al tuo santo cuore e ringrazio Dio di tutte le virtù meravigliose che ti ha concesso, umilmente prostrato innanzi a te, ti prego, per il cuore di Gesù, di volgere su di me uno sguardo di misericordiosa compassione, e di non respingere la mia umile preghiera, affinché la mia fiducia non sia vana. Dio ti diede la facoltà di aiutare i bisognosi con la tua possente intercessione. Vieni, dunque, il mio soccorso, affinché si allontani o risolvano tutte le mie tribolazioni, e possa lodare la misericordia di Dio. Per tutta la mia vita sarò il tuo fervente e riconoscente devoto, finché possa giungere un giorno a lodarti in cielo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e coltiamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.